ANIMA! 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 E' l'fuso! AAAAAAAA! Ma già un cello già! Animale e animale, benvenuti nella finale del torneo fra youtubers organizzato da WAKOS. Io contro Joker, nuove distrazioni, ci sta il pubblico. E' uscito un macello incredibile, è volato di tutto e fa schiantare dalle risate. Lasciate assolutamente un mi piace e un commento nella parte che vi è piaciuta di più e godetevi la finale più ignorante che ci sia mai stata. Buona visione! Grazie, grazie! Eeeeeee! Arriba, arriba! Eeeeeee! Arriba! Arriba! Ma che ti sei comprati? Io? No. No, ma gli ho promesso che poi spogliono che è la curiosità stella dei mainster. Gioche! 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 E non lo dico più, eh! Io già tanto le sono arrivato in finale, ringrazio mia mamma. Grazie mamma di anima. Grazie mamma. Eeeh, senza di lei non c'ero. Qua abbiamo anche il pubblico, cioè, rispetto ai seguiti, quando giocavamo al campetto fra le prime partite, non c'è nessuna cosa, una cosa però, io te l'avevo il bad. Vai, ti diamo! Vai, ok! Oh, attenzione. Ah, che tocchi ho? No, dai, non vado! Oh, mi ha dato la comitata, ragazzi, oh! Fatto io, eh? Non è vero! Caccio d'angolo! Si! Aia! Tu li devi mettere! No! Come tu, hanno due li devi! Io li devo mettere! Oh, vada qua! No, 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 no! E' vero! Eeeh! Ma no, 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 no! Ma almeno metti il bene! Ma devi mettere pausa! Dai, vai! Ma già, uccello già! Ma ci vedi? No! Aiuto! Ah! Non puoi lanciarla! Non ti funziona il pad? Va! Meglio, meglio per me! Meglio per me! Che cos'è? Raga, non va! Non mi va il pad! Oh! Eccolo là! Ma dai! Vediamo l'azione, attenzione, giocherigno! Giocherigno! Ho capito! Oh, ci credo! Raga, per me c'è la nebbia! Che vuoi? Oh! 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 No, non posso giocare al contrario, raga! No, raga! Pazzo! Un attimo! Me ne vedete un attimo! Che c***o sei qua! Il pad da incontrare! Ma cosa che sai? Non so cosa sto tocchendo! Non chiamare la bar! Ma mia! Ma perché? Che! Ah! Aiuto! Mamma! Devi perdere! Anima! 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 Raga, non mi va il pad! Raga, faccio la finita d'anguria! Ma esplodo! Raga, non va il pad! Me l'avete dato marcio! Ma aspetta! Eccolo! No! Oh, madame! No! Via! Non ci vedo! Sì! No! Dai! Com'è che si corre? Mi devo una mano, dammi! Non va con l'F2 perché non corre! Eh! Domenico! Vai! Ma cosa? Mi sto lavorando! Ahahahah! Eh! Dai! No! No! Arbitro! Chiamo te un secondo! Che devo fare? Modo magnano! Non mi corrono i giocatori! Oh! Un R2! Modo sfondo! Grazie! È giusto! Che sai che stai facendo? Scusate! Scusate! Vediamo! In azione! Sancionino! No! Mamma mia! Ah! 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 Mi mette la sedia! Ah! 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 Mi metti la giocatore! Ah! Ah! Un amico! Ho perso io! Ah! 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 Guardate un tasto, per favore! Eccolo! Ah, non ho il tasto! Dammi il tasto! Voglio il mio tasto! Gioca il cosa! Io sento il freddo da qui! No! È freddissimo! Eccolo! È mortito che è lui! È mortito che è lui! Ma cosa? Tanto lo sto facendo anche a me! No! 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 No, no, zio! No! Perché mi attaccate roba quando sono in difficoltà io? No! 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 L'ho premuto io, mi palpeggio, ma perché a me? Non ci sento! No vabbè raga Via! Ma questo cazzo fa goncia, quegli altri due le tre e mezzo! No mi sporchi! Basta! Voglio andare a casa! Qui c'è stato un delito raga, non ho neanche più... Ormai neanche ci provo! Grande gioca! Io non capisco perché... Non c'è tanto perché... È finito! È finito! E adesso si festeggia! No! Vinci! Giante! È una prasa a Sasha! È una prasa a Sasha! Grazie! Grazie! È finito! Ah ma ci sta bene! No! No! Perché perdeva? Ci stava una penitenza ma mi sa che è più di così! Che mi fanno? Mi ammassano! Ma che stai facendo tu? Così facciano tutto il braccio! Aiuto! È per la sgana fro! Non ti basta aver vinto! Sei pronto? Sappi che te voglio bene! E bravo Sasha! Bello! Aiuto! Bravo! Bravo Sasha! Noi ci vediamo al prossimo torneo, al prossimo video, da qua, a tutti gli altri, trovati i canali in descrizione! Ciao! Ciao ragazzi! Ciao!